Jennifer e Anna Kay sono due studentesse statunitensi, pronte a tuffarsi nel mare di arte, architettura, cultura, tradizioni, anche vinaiole. E oggi infatti siamo alla Vigna, la Biblioteca Internazionale, al presidente Mario Bagnara il compito di accogliere le stagiste. Affiancate da un collega dell'Università di Padova, realizzeranno una guida ad uso e consumo degli americani. Un vademecum che solcherà il percorso storico della Biblioteca La Vigna, complici dell'operazione le imprenditrici dell'Accademia La Donna e il Vino. che si sono fatte carico di finanziare lo stage, come precisa la presidente Marica Rossi. Le stagiste staranno qui un mese e dovranno sviluppare anche la pagina in inglese del sito internet della Vigna. Un sodalizio, quello con gli americani, che non è casuale. La passione per i libri sul vino di Demetrio Zaccaria, compianto artefice della Biblioteca, nacque proprio negli Stati Uniti. E mentre il Consiglio Scientifico si sta riorganizzando, conclude Bagnara, inizia l'opera di divulgazione per la Biblioteca, che vanta un patrimonio di pubblicazioni sul vino tra i più ambiti al mondo.